Per noi è un onore inaugurare la nostra galleria con un artista come Franco B, un artista che io ho avuto modo di conoscere attraverso sue mostre che ho visto sia a Milano che nel resto d'Italia, mi ha subito trasmesso dei sentimenti molto forti. In passato con le sue performance, poi ho seguito tutto un po' il suo percorso artistico fino ad arrivare ad oggi, ai nuovi neon, al discorso del periodo nero di Franco che secondo me riesce a rappresentare l'amore attraverso un occhio di un artista molto in gamba di fame mondiale come è Franco. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.